Come è cambiato il mio fisico dopo 20 giorni di rest? Causa vacanze! I volumi sono diminuiti e questo si può vedere soprattutto nei glutei questi erano i glutei a inizio delle vacanze ovviamente c'è molta meno definizione anche a livello dell'addome così ecco se faccio gli addominali ma se no non ci sono molto mentre invece nell'upper tendenzialmente ma proprio di genetica tendo a mantenere una buona massa muscolare ma diciamo che un po' di spalle e dorso l'ho perso quadricipiti poi inesistenti per come sono fatta per conformazione tendo a perdere subito nell'overbody nonostante mi alleni da tanti anni ah ho perso anche un chilo e mezzo infatti mi sento tutta piccolina minutina